Nel nostro sistema sanitario regionale c'è un'anomalia tutta abruzzese. La compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, fissata in 10 euro a prescrizione, aveva infatti ingenerato una stortura. In pratica c'erano prestazioni il cui contributo era superiore all'intero costo, come ad esempio nel caso di alcuni semplici esami diagnostici. Il risultato è che ai cittadini non conveniva rivolgersi alle strutture pubbliche ma ricarsi dai privati con notevole risparmio di tempo e denaro. Un'anomalia che potrebbe essere corretta già nei prossimi giorni con l'approvazione del bilancio 2012. In Commissione è stato infatti approvato un emendamento presentato dal Consigliere dei Comunisti italiani Antonio Saia. Questo emendamento fortunatamente è stato approvato all'unanimità. È un emendamento fatto da me, sottoscritto dai colleghi Acerbo e Caporale, in cui appunto si prevede che il costo di una prestazione, anche orché maggiorato dei 10 euro, non deve, non può comunque superare l'intero costo della prestazione secondo tariffario nazionale. Per capirci oggi avviene che una glicemia che costa 2 euro se prescritta su un ricettario, diciamo, dell'AS, del sistema sanitario, dai 2 euro viene a costare 12 euro. Così ogni prestazione viene maggiorata di 10 euro. E quindi si va a superare di molto l'intero costo della prestazione. Questa è una notizia buona, per fortuna, la prima notizia buona per coloro che sono malati e che si devono curare e che oggi sono sottoposti a dei ticket troppo onerosi.